Un panorama da mozzare il fiato fa da sfondo a Claudia Pandolfi e Claudio Gioè. Roma è i loro piedi mentre recitano sul set del XIII Apostolo II. Saranno ancora una volta Claudia Munari e Gabriele Antinori. Misteri e intrighi saranno il pepe della seconda stagione della fiction. Nella scorsa serie la loro storia d'amore ha dovuto interrompersi per forza di cose. Ora è probabile che l'intreccio si arricchirà proprio di litigi e di avvicinamenti tra i due amici. Il XIII Apostolo II, la rivelazione, sarà il seguito del prescelto. Gabriele infatti...